Cook e Cook credo che Bremer tornerà in campo presto io più che far tornare a J.R. Bremer in campo farei uscire Cook ma anche dal forum proprio Hackett, gran bella palla per Urbutis che realizza mi pare canestro buono e c'è pure il fallo e ha lavorato bene Urbutis, primi due punti in maglia bianco rossa